Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nioh! Assetto veloce! Bene! Allora... Riveliamo! Perchè si... Era ora... Abbiamo detto Spirito 12... Piano piano già arriveremo di... Contro di Niohkai più 2... Non è che mi dia tanta roba eh... Però... Potenze Omino dai non mi interessa più di tanto... E... Legami con lo Spirito Guardiano è più 40... Quindi la Baramrita è un pelo più grande... Va bene lo stesso dai... Facciamo qui tanto... Ho detto che devo portarlo... E lo porterò... Perchè mi interessa con lo Spirito... Non è malo per niente... Allora... Qui è un bel casino... Perchè... Quante frecce ho? Pochissime... Allora... Vediamo di fare con questo... Anche questo ne ho poche... Ma... Se non voglio di far tutto da capo... Mi tocca far così... Vediamo un po'... Eh... Questo adesso viene... Questo... Eh... Non ce l'ho fatto... Vabbè... Vediamo che figura di merda riesco a fare anche stavolta... E... Sì... Insomma... Ok... Bellissima questa... E quando non sappiamo come... Ah... Fare... Cosa dicevo della figura di merda? Ah no... Perché è arrivata subito eh... Perfetto... Sono riuscito a farla anche stavolta... Quindi... Ho vinto... Ho vinto diploma... Oh... Guardate... Quindi adesso mi tocca rifare tutto da capo... Che... Che felicità... Proprio tanto felicio... Allora... Tac... Ecco qua... Eh... Perché è sensibile... Guardate che non vi immaginate quanto... Ecco qua... Questo... Un altro che... Vorrei mandarlo... A quel paese... Ok... Se viene lui non importa... Oh... Ce l'ho fatto... Ho fatto il critico... Eh vabbè... Adesso aspettiamo questi due... E sono più gestibili eh... Quasi... Ok... No 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 no... No no no... Non ci provare più... Ma è strano... Perché... Quest'arma qui... Eh... Così dovrebbe... Essere... Sì... Se non prendo le farfalle... Forse anche meglio... Cavoli... Cioè... Vi date conto che... Non riesco a battere questi? Sono veramente... Non è che siano forti... E che porca miseria... Tolgono un casino... Eh... Tanto... 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 Eh... Sono già sette lisire eh... Cioè... Non ho fatto niente... Ok... Cioè... Prendo un sacco di roba eh... Perché guardate quante roba ho preso... I... Tra item e varie cose... Non saprei proprio... Quante... Che sono veramente tante... Allora... Vediamo se c'è un Kodam o un qualcosa... Qui... Scatola... Non c'è niente da fare... Allora... Qui c'è un nemico... Lo sento... Un Kodama... È lì... Come ci arrivo lì? Eh... Presumo... Da qua... Allora... Questo lo prendiamo... Prima che mi arriva una cannonata in faccia... Una cannonata in faccia... Ok... Andiamo qui... L'avevo visto... Eccolo là... E dai... Se uno lo vedo... Lo prendo... Non è che lo lascio lì... Insomma... Poverino... Cosa mi ha fatto di malo... Ok... La strada... È questa... Qui cosa c'è di bella? Infatti... Mi ricordavo che comunque qui vicino... Ce ne fosse uno... Ma esattamente dove... Non mi ricordavo... Ma tu che cazzo sei? Non mi fai neanche parlare? La gente è strana... Veramente... Vabbè... Andiamo su... Ok... Ah... Interessante... Molto interessante... Oh... Sì... Molto... Molto interessante... Così io posso tagliare... Non ho ancora capito dove devo andare... Cioè... Più o meno lo so... Per carità... Qui c'è... Chi è? Ah... No... Facciamo così... Perché sono stracorazzatissimi... Mamma mia... Eccoci qua... Ok... Forza... Ecco qua... Preso... Adesso voglio andare a vedere l'ultima cosa... Poi andiamo dritti... Dritti... Ah... Ce ne sono due o tre di cose da vedere qui... Questa... Perché se c'è qualcosa di interessante... La vorrei prendere... Io sono qua... Sì sì... Ho capito... Oh cazzo... Oh cazzo... Sì ma cazzo... Quanto mi tolgono... Aia... Ma dove siete? Non vi vedo... Ecco adesso... Ma porca... Sono riuscito a prenderlo in pieno... Allora... Vediamo un po'... Ci mettiamo più o meno in linea d'aria... Tac... Ecco... E adesso questo qui... Eh... Ci arrivo domani... Domani forse ci arrivo... Vai... Perfettico... Adesso andiamo qua... A vedere cosa c'è... Oh salve... Ok... Ok... Dai... Adesso che c'ho... Molto... Molto... Cosa... Lo voglio usare... Eh... Scusate... Sì da un certo punto... Allora... Dovevo andare qua... Ecco qua... Scusate non ho letto... Wow... Torno come ride... Brutto... Oh... Sade Kodama... Eh... Adesso... Adesso arrivare da lui... Sarà un dito nel sedere... Eh... Devo salire qui... In qualche modo... Arrivarci... Che non sarà per niente facile... Chi è? Oh salve... Eccoci qua... Cioè... Sto spammando tantissimo eh... Toh... Eh... Che cavolo... Oh... Cosa mi hai dato? Ok... Eh... No 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 no... Porca miserica... Dai... Allora... Devo... Proteggermi... Perché non ho capito bene dove sono... Sti cacacazzi... Allora... Devo andare da su... Vi ho detto eh... Qui c'è ancora qualcosa... Madonna quanti item... Non ho più... Non ho più munizioni... Eh... Dovrò far così... Purtroppo... Allora... Che devo andare là... E non sono ancora... Un santuario... Eh... No non l'ho preso... Vabbè vabbè vabbè... No... Questo non ce la farò mai... Ok... Uno... L'ho preso... Ok... No... Peh... 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 No no no... No... Ma mi tolgo tantissimo... Maledizione... Ok... Uno è andato... Magari... Andiamo... No 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 no... No... Maledetto... Ma no... Ma quanto mi togli... Non mi... Cioè... Per preparare l'arma... No... Non ci... Provare... Ok... Ok... Vai... Adesso... Oh... Così è l'unica... Perché rimane un attimo sbilanciato... E ce la faccio... Allora... Per vedere se c'è un altro Kodama qui... Come faccio? Ho fatto il giro... No... Devo assolutamente andare là... A prendere quel Kodama... Perché una volta che li vedo... Li voglio prendere... Perché sennò... È una cattiveria da salire là... Poverini... Allora... Devo ancora capire come andarci qua... Non ho capito ancora... Andiamo un po'... Oh... Ma dice qualcosa... Voglio prenderlo... Oh... Santa miseria cosa ho fatto... Chi ho risvegliato? Ok... Andiamo qua... Allora... Forse di qua... Oh... Qui ho lasciato qualcosa in giro... Ok... Eh... No no no... Non voglio parlare con te... Devo sapere come arrivare qui... Non ci arrivo da qui... Quindi forse... Dal... Cosa qua... Dal ponte... Vediamo un po'... Eh... Brutta cosa... Sì... Koeru... Koeru... Allora... Vediamo se ce la faccio... È un po' nazzardo... Ma... Il ponte è qui... Sì sì... No 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 no... Ok... Aspetta... 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 Mamma mia che paura... Ok... Se ne è andato via... Eh... Ma questi... Allora... Vediamo un po' se riesco a... Prenderli di soppiato... Tac... Perfetto... Questo lo volevo prendere così... Però... Facciamo così... Va... Perché ho paura che dopo... Ma quanto si rompe? Si... Si rompeva... No... Sto solo sprecando... Ok... Vai così... Tac... Ecco qua... Devo ancora prendere quel Kodama... Maledizione... Dove cacchio ha il Kodama? Mi sono già perso... Allora... Andiamo un attimo qua su... Oh salve... Ok... Fatta... Poi scendiamo... Allora... Eh... Ha detto che più o meno era verso di qua... Verso di qua... Il ponte è anche qui... Porca miseria... Quanti ponti ci sono? Mi sono perso... Come al solito... Mi perdo sempre... Allora... Vediamo un po'... Salve... Ah bello... Figura di merda... Arrivo... Non aspettarmi troppo... Perché sto arrivando... Allora... Eccoci qua... Eh... Ma porca miserica... Ah era morto questo... Ok... Adesso però... No no... Ma porca vacca... Mi scordo che ho il dot... Ok... Adesso abbiamo fatto anche questa... Adesso apriamo qua... E vediamo cosa c'è... Tanta roba... Ho preso una roba viola... Mi hai detto cos'era... Perché l'ho fatto troppo in fretta... Allora... Non capisco... Dove sia il Kodama... Porca miserica... Ah non lo trovo mica eh... Non lo trovo... Non riesco a trovarlo... È stato un casino... Perché non mi facevi capire... Dove andare... Ah... Santa... Vacca... Miseria... Eh... È una bella... Una bella palla eh... Dover... Ammazzarli tutti... Per riuscire a capire qualcosa... Perché non riesco a capire un cazzo ragazzi... Purtroppo... È quello il problema di base... Che non ci capisco una mazza... Non mi ricordo più dove era il Kodama... Bel problema... Era qua da qualche parte... Che ho detto... Bisogna andare dall'altra parte... Perché... Era qui... Mamma mia... Ma è pieno... È pieno... Ok... Per carità eh... Si fanno un sacco di punti eh... Non è che... Mi lamenti per questo... Però... È un bel cazzo di casino... Perché se ti perdi un attimo... Adesso troppo chi... Cioè nel senso che rispetto a loro... Riesco a fare veramente... Oh quanta roba... Oh salve... Eh... Sì adesso arriva anche Komeru... Allora chi è? Oh col cannone addirittura... Toh... Oh cazzo... Bella schivata... Complimenti... Ragazzi... Non riesco... Eccolo Kodama... E ho detto... Devo passare il coso... Adesso ci provo eh... Allora... È lì... Devo andare qua... A questo... A questo... Bastardo... Mi fai andare... È quello... È perché mi incasino così io... Devo andare a quell'altro ponte... Che per andare a quell'altro ponte... Devo girare qua... Ok... E sono andato all'altro ponte... Che è questo... E il Kodama era qui vicino... Giusto? Era da queste parti qua... E però io di qua non posso uscire... Quindi... È lì Kodama... Ok... Mamma mia... Caro Kodama ti scrivo... Fammi capire com'è arrivare da te... Perché io non ci sto capendo... Una vera e amata cazza... Oh... Si può andare qui... Si può andare qui... Oh... Kodamuccio bello... Finalmente... Eh... Non ci stavo più dentro la pelle... Insomma... Avete capito... Adesso posso andare al traguardo... Dove... Ho matato un sacco di gente... Era ora che andassi da qualche parte... Insomma... Avete ragione anche voi... Eh... Devo andare di qua... Questo è un santuario diverso... Da quello che avevo fatto... Boh... Non ho capito bene dove devo cazzo andare... Dove... Dove siete... No 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 no... Qui... Ogni volta che vai da qualche parte... Devi sempre pregare... Porca miseria... Eh... Io non vedo un cazzo... Ecco... Ovviamente... C'era il cazzo di... Porca troia davanti... Ecco qua... Un po' più... Piace... Qua... Ok... Vediamo questo... E basta... Allora... Eh... Cazzo e basta... Ok... Ho fatto un po' di... Di strada pulita... Eh... Eh... Ciao... Allora... Devo... Chi è che mi spa... Oh cazzo... Eh... Come li saluto quelli... Qua sono già venuto sicuramente... Non si capisce... Una mazza ragazzi... Una mazza... Dove andare... Eh... La strada... È quella... Qui c'è un tesoro... Ma non me ne hai fatto un cazzo... Voglio solo trovare la strada... Questo mi preme... Allora... Di là... Cerchiamo di andare di là... Eh... Vaffangulo... Andiamo di qua... Di qua... Che poi di qua... Sopra il ponte... Proviamo sopra il ponte... Vai... Andiamo di qua... E vediamo dove va... La strada... Eh... Non si capisce un cazzo di niente ragazzi... Un cazzo di niente... Allora... Sembra qua direzione... Sembra... Ok... Ok... E qui e qua... E qui e qua... Non vedo qua d'ama... No... Perché se dopo salgo... Non posso più scendere... Sì... Mi dispiace tanto per te... Ok... Cioè... Oh cazzo... Lo salve... E fettico... E vai così... Accidenti se è forte... E io devo combattere molto lui? E io devo combattere molto lui? Fantastico... Già... Quando mai eh? E la miseria... Eeeh... Salve... In che senso vieni no? Perché non è che abbia molta voglia... Se mi... Cioè... Devo fare un tè... Ehm... Ok, no, 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 ho finito un ki, non ci credo, mi ha tolto tanto, allora, porca trotta con sto ki del cazzo che me l'ha tolto tutto, l'Immortage, allora, ma questa non l'ho capita proprio, me la devi spiegare in una volta sola, me la devi spiegare. Ok, cosa devo fare ragazzi, devo studiarmi, devo curarmi, devo far tutto, purtroppo, è una cacata sto boss, è una cacata disumana, lo so già che è una cacata, però il problema è adesso che devo ritornarci a questa cacata, io non ho più un cazzo di niente, se me la faccio di corsa ragazzi la perdo, ve lo dico subito, quindi adesso uso una candela dell'ovocatore, E poi off camera vado lì, perché se no ci metto 30 anni, dove cazzo è finita sta candela di merda, adesso lo devo mettere assolutamente nei corsi, dai, non posso andare avanti così, se no è un cazzo di casino, c'ho troppa roba, non la trovo, io vado di fretta, ok, candela dell'ovocatore, vai, allora, vai così, perfetto, ok ragazzi ci vediamo fra poco che ritorno là. Ok ragazzi, ho lasciato da panico, adesso ci riproviamo, dai, vediamo se riesco a farcela, non essere avido, mi raccomando, ok, ma no, si farà neanche a pigliare le farfalle, ed ecco qua, bisogna essere veloci, perché lui è lento, e non bisogna perdonare, mai. Ok, no, no, non ci provare proprio, eh, ma proprio mai, ma non ci provare proprio, se, io aspetto lì che te la usi sta cosa, vero, vedo l'ora. Eh, sì, aspettiamo che, oh cazzo, ok, eh no, ok cazzo, no, è troppo forte quando questa qui finirà prima o poi, no? Sì che finirà, adesso la faccio finire io, porca miseria, scassa maroni. Ecco, sei contento così? No, è perché sennò non finiamo più ragazzi, ecco qua, ce l'ho perché non usano, insomma l'ho potenziata, non è che ho barato, insomma, eh. Eccoci qua, abbiamo fatto anche questa, eh, alla fine non era tanto difficile, eh, ecco qua, eh, la mia repuntazione è anche salita, insomma, sì, va bene, ho preso un sacco di roba, eh, mi fai parlare, no, perché, cioè, mi, è finita così? Ah, devo andare qua, ok. Andiamo, beh, è stato facile, ok. Eh, ridi, ridi. Oh, adesso mi dai lui? Non è che mi interessa, però uno in più, non so mai. Oh, adesso mi dai lui? Non è che mi interessa, però uno in più, non so mai. Beh, bene. Non voglio il tuo cuore. 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 Prima di Natale. Oh ragazzi, bene, ha finito il livello. Mi hai dato un sacco di cose. Il gesto, la lancia e vabbè, i proiettili. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Così facciamo al prossimo video il boss. Quindi come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie e farmi sapere cosa ne pensate. E per questo video, saluto da Shiva. Ciao ciao